Musica 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 Bomba Che palle Ma hai pensato che hanno compensato Passetto No vattene Abbomba Abbomba Mamma mia lo prende e lo placca e lo manda a casa Vattene affanculo Ma come cosa sono fanno dormire Ma che siano mani alla capesaaa guarda, guarda, una mano alla cabeza si vabbè ma il mio casca, ma perchè? perchè è stupido come il padrone vaffanculo una mano alla cabeza un movimento sexy perchè hai vinto te? oh, sbarrello, sbarrello eh, eh, eh oh, 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 morto aspetta, Forrest, ti raggiungo sei un po' ombriaco vabbè vaffanculo, cioè oh, sbarrello, sbarrello sbarrello oh, 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 mmm cos'è sbarrello ma che cosa? ma non è possibile aspetta un po' non è possibile ah, si, mmm no, mamma mia, la forza nelle mani vaffanculo mmm, la 69 vieni qua, vieni qua vabbè, vabbè, vabbè tranquillo, tranquillo non è successo niente fa tutto da solo mi dà un metodo bicchierino si, aspetta un po' oh, 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 oh mi fa un gelazzurro, si, subito ti piace il petrolio quanto ha bevuto oggi? è abbastanza, guarda oh, oh, oh ci tengo pure io oh, oh oh, oh pezzi di nari aspetta un po', aspetta un po', fermo sto fermo, sto fermo, sto fermo facciamo un passo alla volta per vado a vedere che siamo ubriachi, guarda così, così fai prima a te, guarda così, facile, è facile è facile, bravo, oh, oh, oh oh, oh, oh che sei triste del bar, oh, 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 oh potrà avere un bicchiere di petrolio? ma che cazzo era? ma che ha fatto? oh, 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 oh oh, 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 oh oh, oh, oh oh, oh oddio, basta l'ho salzato così è morto, guarda il mio che sta a fa' è troppo bello era guarda, sono là ad age style aspetta bello è molto sincronizzato per fare questo ballo devi fare così una mano alla cabeza ecco il casca però i passi devi fare bene i passi sono giusti l'intento è quello riproviamo, guarda, riproviamo una mano alla cabeza una mano alla cintura un movimento sexy un movimento sexy oh, vince vince anche nei balletti ora salta bam è morto va bene ragazzi se vi è piaciuto questo video mi vediamo a lasciare un mi piace a consigliarsi altri giochini a consigliarsi altri giochini a consigliarsi altri giochini esatto non game piece perché non va sul nostro computer vorrei farlo vorrei farlo sarebbe molto figo farlo tipo che lo prendi lo pillo lo girapolti così e poi agab sbattuto e lui stasera deve giocare e lui stasera deve giocare quindi non gioca più stasera bevo 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 fu schifo fu è il camera mio? fu non so scusate per te comunque dai granas è tutto da xanic è tutto da darry il no perché lui non saluta mai mi raccomando lasciate un mi piace commentate ciao 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 ciao